Con Simone Baggioli, consigliere comunale, nella splendida cornice di Villa Ormon, oggi lui è il dirigente del gruppo Il Confronto, che organizza oggi un incontro dibattito sulle eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Simone, di cosa parlerete? Innanzitutto io sono cofondatore di Il Confronto, il presidente Luigi Marino, che non vedo ma comunque qua mi sta facendo pubbliche relazioni. Abbiamo organizzato questo evento facendo un grande lavoro di squadra, grazie all'organizzazione del presidente Luigi Marino, io ho partecipato attivamente a tutto il direttivo e facendo questo gioco di squadra oggi abbiamo avuto anche la fortuna del tempo e abbiamo portato in questa bellissima cornice un evento che parla delle nostre tipicità, a partire dal gambero rosso per arrivare a tutti i prodotti tipici locali, tra cui l'olio taggiasco, tutte predibattezze che rappresentano la bellezza del nostro territorio, della nostra terra e delle nostre attività produttive. Ecco, ultimamente è stato conferito il marchio Deco al brand Acquion. Ci saranno altri prodotti che potranno essere inseriti nel marchio Deco? Sicuramente il gambero rosso che è una predibattezza dei nostri mari e con l'Europa e con Alberto Cirio stiamo lavorando affinché si metta chiarezza su quello che sono i confini italiani, che è stato un dibattito molto attuale nell'ultimo periodo e noi tenteremo, valorizzando appunto i nostri prodotti tipici con queste personalità, di valorizzare quello che è il nostro territorio. Grazie mille.